Partiamo con la carrellata delle news più significative di oggi ed ecco subito Daniel Bryan che durante un'intervista ha rivelato di aver parlato con i dirigenti della WWE prima del suo esordio in One Elite Wrestling. Le parti si sono lasciate, parrebbe, in ottimi rapporti e Daniel ha detto ora nella mia nuova casa, nella federazione in cui lotterò da qui in avanti, non farò il richiamo ai canti yes, yes, yes. Mi sono accordato con Kevin Dunn che è un dirigente della WWE e intendo rispettare la proprietà intellettuale di quella federazione. Bryan ci ha tenuto a ribadire che non c'è stata una richiesta legale o che non si sono nemmeno avvicinati ad entrare in quel comparto. Semplicemente c'è stato un chiarimento e Daniel ha detto va bene, riconosco che quella cosa, che quel gesto, che quel canto, che quel mannerism è nato in WWE e lo lascerò come esclusiva della mia permanenza e delle mie performance in quel luogo. Ma non è tutto perché Bryan, secondo me è un gran signore, ma ve l'ho sempre detto, quando l'ho intervistato mi ha fatto un'impressione clamorosa come essere umano. Bryan, alla vigilia dell'esordio nel ring in All Elite, ha voluto ringraziare pubblicamente la WWE e lo ha fatto con un editoriale, una lettera aperta, chiamiamolo così, molto molto bella. Dice grazie WWE, ora che sta per iniziare una nuova parte della mia carriera, te lo devo dire. Grazie per essere stata una famiglia lontano dalla famiglia vera. Grazie per avermi fatto sentire bene quando non mi sentivo bene. Grazie per le tante discussioni, a volte relative a cose inutili. Grazie per avermi fatto ridere nei migliori dei momenti e anche nei peggiori. Grazie per tutte le piccole cose che hanno reso la mia vita da wrestler più divertente. Bryan ringrazia anche tutte le persone che lavorano dietro le quinte, che non si vedono, quindi i cameraman, lo staff, la gente del catering, quelli della produzione e soprattutto ci tiene a ringraziare il big man là dietro, ovvero Vince McMahon. Dice so che odia che gli siano dati dei meriti, quindi non aggiungerò altro, ma grazie per le nostre chiacchierate, grazie per le lezioni di vita e grazie per il miglior abbraccio che io abbia mai ricevuto. Vorrei davvero che la gente ti vedesse per quello che sei in realtà. E poi ovviamente ringrazio ai fan WWE che con entusiasmo gli hanno permesso di arrivare nel main event di Vrestelmania 30 e poi lo hanno fischiato nella battaglia di Vrestelmania 35 rendendo magico il trionfo di Kofi Kingston. Beh, è un bel pezzo, io ve l'ho riassunto in poche righe. Dice anche ho amato stare in WWE, ma la vita è cambiamento. Lì ho incontrato mia moglie, ho creato delle bellissime amicizie che non saranno mai scalfite dal tempo, però gli ultimi anni ci hanno insegnato a non dare niente per scontato e quindi voglio provare qualcosa di nuovo visto che il tempo della mia carriera inesorabilmente va scadendo. Dicevo, ve l'ho riassunto così brevemente, però è un bellissimo pezzo. Ripeto, Daniel Bryan, anche per esperienza personale, umanamente è incontestabile. Al di là che nel ring possa piacere o non piacere o che sia un ottimo performer o uno che vi annoia. Non è da tutti uscirsene con una cosa simile. Segno che, se vogliamo, se ci impegniamo, possiamo anche stracciare le bandiere d'appartenenza e goderci la bellezza del wrestling su più posti possibili, su più federazioni possibili perché siamo fortunati e ne abbiamo la chance. Tra l'altro Daniel Bryan, e concludiamo, ha anche detto in un'altra intervista che i prossimi tre anni, credo sia questa la durata del contratto con All Elite Wrestling o comunque ce lo lascia percepire, i prossimi tre anni dovrebbero essere degli ultimi della sua carriera full time. Ha fatto riferimento alle commozioni cerebrali che non hanno dato la massima fiducia alla WWE nel riportarlo on screen e al fatto che poi gli abbiano anche suggerito di rallentare per prudenza. Detto questo, è cosciente della sua storia medica e quindi conferma che i prossimi tre anni c'è proprio qui il pezzo che vi rendo evidenziato saranno quasi sicuramente gli ultimi tre come full timer quindi questo è il climax, dice Daniel Bryan, della mia carriera beh, ha tre anni per creare altri capolavori e vista la cura che Daniel ci ha sempre messo nei suoi match io scommetto su di lui. Poi commenterò altre battaglie, commenterò come sempre la WWE però Daniel Bryan è una garanzia. Passiamo a Triple H che come sapete è stato operato per un problema cardiaco, la WWE è stata molto avara di dettagli e ha fatto trappelare la cosa una settimana circa dopo l'intervento chirurgico. WWE su queste questioni, avete visto anche con Kate Lee ci va molto prudente, non ama che diventino di pubblico dominio. Ad ogni modo, Triple H sta meglio, ha twittato dicendo che è rimasto quasi soverchiato dal sostegno che così tanta gente gli ha dimostrato dice sto recuperando, sto migliorando e sono molto grato per tutto l'amore che mi avete mostrato che insomma mi avete riconosciuto, che avete riversato su di me e sono soprattutto grato a Shawn Michaels e alle superstar e allo staff di NXT anche perché insomma c'è stato il cambiamento a NXT 2.0 senza la guida del re dei re. Come già vi ho riferito, Triple H sta accettando le telefonate dei suoi colleghi, degli atleti, dei suoi amici la WWE ha chiesto a questi ultimi però di non parlare di business di distrarlo, di tenerlo di buon umore ma di lasciare l'aspetto menageriale fuori da ogni argomento perché vuole che Triple H non si focalizzi già con la testa sul dover tornare il prima possibile al lavoro meglio recuperare con calma. Chiudiamo con una polemica questa non è spoiler su Raw però devo parlarvi di una piccola cosa accaduta l'altra sera nell'ultima puntata di Raw parlo della cronologia americana praticamente era già in programma quindi era annunciato che Charlotte Flair e Alexa Bliss si sarebbero confrontate nel ring all'interno del parco giochi di quest'ultima. Il Wrestling Observer ha detto per bocca di Dave Meltzer che mentre le due parlavano circa 1500 persone hanno lasciato l'arena perché annoiate dallo scambio tra le due. Alexa Bliss non l'ha presa bene ha visto girare queste notizie e ha pubblicato delle feroci smentite quindi hanno pubblicata una ce ne hanno riportata una ce ne sono altre e dice sorry Meltzer o chiunque altro non avete idea neanche di quello che stiamo facendo smettetela smettetela di dire bugie quello che dite non è assolutamente accaduto vi state mettendo in imbarazzo vi state ricoprendo di ridicolo di ridicolo c'è stata una leggera rettifica del Wrestling Observer per bocca di Brian Alvarez che è diciamo il numero due anche se è molto competente anche egli tra quelli dello staff del sito che dice 1500 probabilmente Meltzer ha esagerato ma le persone che se ne sono andate per noi sono 700 e non ce l'ha detto un fan non ce lo siamo inventati ce l'ha detto uno che lavora per la WWE una fonte nostra interna che non possiamo svelare ma che era lì poi se vogliamo spaccare il capello in quattro magari era 900 magari erano 564 chi lo sa però secondo loro la gente annuiata dalle due ragazze ha preferito abbandonare lo spettacolo aggiungo io malgrado dovesse ancora svolgersi un main event beh abbastanza importante per le star coinvolte chi ha ragione ma non lo so non lo so Alexa Bliss se l'è proprio presa sui social gliene ha dette 4 a me sembra strano che così tanti fan sapendo che debbano scendere ancora nel ring i calibri più pesanti su un segmento che dura 10 minuti dicono no che due palle vado via vado via incazzato lo show mi sta deludendo anche perché secondo me lo scorso io l'ho tradotto almeno metà circa beh è stato bello è stato figo cioè è stata una buona puntata non è Vrestlemania però comunque è una puntata piacevole quindi mi pare molto bizzarra sta cosa però staremo a vedere se ci saranno degli sviluppi futuri è difficile che una delle due parti però riesca a provare il suo punto perché il Wrestling Observer ha la sua fonte non sappiamo chi è e ovviamente Alexa Bliss se la prendeva anche con queste robe tutte queste fonti da dove saltano fuori avete sempre delle fonti ma poi non si sa chi sono non si sa chi è e basta dire ho una fonte e vi potete inventare la qualunque dall'altra parte beh anche la Blix non è che c'ha delle foto che dicono eh no guarda erano tutti seduti quindi vai a vedere è ancora propaganda contro WWE fatta da un sito che ultimamente spara forte in direzione di questa federazione per sostenerne altre oppure effettivamente la gente è andata via non lo so però vedete il clima sul web non è dei migliori e anche le star eh della federazione dei McMahon un po' ne risentono o comunque scendono in campo sono scese in campo Alexa Bliss lo ha fatto per contrastare certe dicerie che ancora non possiamo annoverare tra le news certe con questo direi che ho terminato se vi va potete ovviamente commentare il tutto qui sotto nello spazio apposito ciao ciao